Sono Roberta Robbione, sindaca di Borgo San Dalmazzo. Quando nel giugno 2022 le cittadine e cittadini di Borgo San Dalmazzo hanno premiato il nostro programma amministrativo, come gruppo di maggioranza abbiamo da subito sentito il dovere morale di istituire un assessorato relativo alla legalità che è stato affidato alla vice sindaca avvocato Cleglia Inverti e abbiamo pensato che questo assessorato dovesse essere ispirato ai valori che da sempre sentiamo nostri e che guidano il nostro modo di fare politica, sempre a schiena dritta ponendo la tutela del bene comune al primo posto della nostra azione. Il ruolo che ci è stato assegnato dai cittadini ci stimola a creare dei momenti di crescita collettiva sul tema della cittadinanza attiva e della legalità nelle sue più diverse declinazioni. In tale prospettiva nel febbraio del 2023 abbiamo aderito all'associazione avviso pubblico. Riteniamo infatti che Borgo San Dalmazzo debba fare la sua parte e che noi amministratrici e amministratori locali dobbiamo andare al di là delle appartenenze politico-ideologiche che ognuno di noi ha, collocando il bene comune al di sopra delle nostre posizioni e ricercando un dialogo costante con le cittadine e con i cittadini e cercando di sollecitarne la partecipazione attiva. Crediamo che non ci siano zone franche dove non esista la criminalità ed è per quello che ogni giorno dobbiamo lavorare per promuovere una cultura della legalità e una cultura della pace. L'indifferenza, la tentazione di girarsi dall'altra parte che alberga in ogni animo umano devono necessariamente lasciare il posto alla consapevolezza, all'agire in modo positivo e legale al prendersi le proprie responsabilità anche quando questo comporta affrontare scelte difficili. Per questo motivo l'associazione avviso pubblico è importantissima perché guida la nostra azione e ci aiuta a lavorare in modo sinergico e strategico con tutto il territorio.